Eccoci qua Ricomincio da capo Tekken 7 Come in Giappone Prima di avviare il gioco Di eccetera Perché? Eh, ho capito Ah, ok Europa Italiano Si accetto Ma 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 si accetto Grazie a tutti. 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 Nuovi costumi, nuove storie, ma cos'è? E' un bel po' che non ci gioco. Offline... Offline... Battaglia Arcade... Battaglia VS... Battaglia Arcade... Sinistra... Mi ricordo... Gin... Cutarino... Giuse... Poi... Steve... King... Brian... Mob... Pando... Healy... Rolls... Lee... Oh... Eddio... Una volta... Una volta... E' sempre... E' sempre Eddie... Ah... C'è tutta la storiella... E' sempre... Spaccala tutta... Spaccala tutta... Spaccala... Spaccala... Oh... Tu hai detto... Spaccala... 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 Poi... Come la piontese, però... Come l'ha già per prendere... Ehi... Biondina... Sei calma... Dai... Un colpo... Un colpo... Un colpo... Un colpo... abba you win ha promosso un nuovo down si però io Poi devo iniziare a capire se devo fare la storia. No. Quindi? Oh. FIGHT! FIGHT! Bravo! Bravo Eddie! Dai Eddie! Forza! Mamma! Che potenza che ha il suo ragazzo! Contro key! Contro lì! 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 Ok, no ascolto, ti devo prendere però, fatti prendere, fatti prendere, oh, fatti prendere ho detto, bastardo, ti ammazzo. Eccolo, già questo, non va bene però, che mi fa combattere già contro questo, eh, dai, incontro promozione, sì, allora ciao, eh, ma quella cosa c'entra? Round 1, sì, vabbè, eh, devi essere più veloce. Ok, disorientalo, bravo, così, 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 grande, mamma mia, mi ha battuto il maestro, dai, 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 che è stordito, è stordito, dai, 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 che è stordito, bravo, così mi piace, ma scusa, lui non aveva la mossa che si alzava, bravo, 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 continuo, continuo così, sì, a spaccolo tutto, sto vecchio, promosso l'ottavo, ah, buono, Kazumi, 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 Ehi, ti ciao, prima, Katumi, Ehi Ma Scusa Una mossa ma la fai fare? Aia questa picchia Aia che questa picchia Aia che questa picchia Oh ascolta 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 Ha dato già il cazzo però Raffanculo Puttana Eh si Come la continua? Ah start Non mi credo niente Oh ascolta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, e poi... Oh! Ma la vacca che è? Più scarso non potevo trovarlo. Oggetto di promozione ho ottenuto. Personalizzo. Allora, vediamo un attimo. Personalizza personaggio. Come sarebbe? Allora, vediamo per caso Eddie. Ah, devo sbloccare la roba. Ok. Il solito giocatore. Cioè? Ma da un altro tempo che non gioco più io. Non mi ricordo. Jukebox. Galleria. Storia. Saga di Mishima. Posizioni. Posizioni di gioco. Difficoltà. Difficoltà. Numero di round. Tempo di unità round. Impostazione per meo. Cos'è? Chatto vocale. Impostazione non desidati. Beh. Ma so dove canale posso andare online? Ah, qua. Informazione giocatore. Opzioni. Vabbè. Ma quelli sono i... sconti sugli dove... Ah, ci sono i cosi. Battaglia tesoro. Cos'è battaglia tesoro? Stavolta andiamo a destra, va? No, Eddie non lo scelgo più. Proviamo... No. Questo è casuale. No. Jim. Caterina. Jose. Paul. Steve. King. Ryan. Che ah, mi ricordo le mosse però. Master Raven. Ina. Lo apro. Amor. Amor, io voglio provare... Fang. Li. Claudio. Vabbè? 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 Io non ci gioco da tantissimo. Ma io ho questa? Perchè io ho questa? Ah, l'altro cazzo, tu e la tigre? Eh, dai. Oh, ascolta, tu e la tigre? Oh! Dai, oh! Ah! Oggetto personalizzato ottenuto. Pollo. Battaglia successiva. Oh! 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 Forse non ti ricordi, forse non capisci, ma... stai esagerando? bastardo mi ha ucciso eh sì eh sì eh sì mi ha ucciso dai dai non hai il tempo di rilassarsi però calcio di destra sinistra che vedi boia faus fight faccio da io boia faus oh ascolta 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 non hai capito allora dai facciamo i seri vincerò io fuma i seri ne per favore ah ok sì speriamo ancora uno va beh intanto abbiamo iniziato se vedrete questo video da youtube scrivetemi qua sotto se devo continuare la serie se iniziamo una serie nuova scegliete voi cosa fare se la storia o questa qua i soldi round one chi è quello? non so chi è non lo conosco ehi ciccio oh è giusto a cazzo ma è lì? ma è lì o qui? bello stare sul piccio non viene nessuno dai non fai qualcosa di strano ok oh ho vinto oh vediamo qualche mossa ma sarà che si sa fare? oh ho ho ehi stronzo in capa ehi ciccio ti piglia a calcio in faccia io ecco così dai ancora uno ma quanto sei stronzo? great no no ma non è pareggio ti piglia a calcio in faccia io eh dai fagli fare quel calcio volante non fa l'alzare non fa l'alzare stai dietro 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 dai e dai sto cazzo di colpo finale muoviti piccio eh promosso a sette distruzione istantanea vabbè eh? cappello di vado natale? per alcuni? no ho sbagliato sono andato avanti facciamone ancora uno eh? ma poi ditemi se la volete che continuo la serie iscrivetevi al canale quando lo vedete a youtube dai ride wow fight come dice il più montese fight scusa ma con altre mosse che cos'hai? solo questo no oh e li lasciami caricare però ascolta 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 io poi mi incazzo e ti ficchio ti ficchio ti ficchio eh dai 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 facciamo in serie eh ascolta dove vuoi sta chitarra? madonna se giocasse a calcio questo ascolta 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 fate ammazzare dai su oh calcio intercostale mamma mia è già livello 6 ma ogni battaglia cos'è? bandiera per alcuni? vabbè dai prendiamone ancora una va vediamo cosa succede ma diamo questo ma scusa perché diamo questo? oh dai ah stronzo ma stai scherzando tu non hai capito chi sono io oh dai dai fai serio è serio? dai dai quel calcio potente che gli davi l'altra volta ok va bene così round 2 wow fight ehi ehi qua iniziamo male eh questo cosa vuol dire? ah i trucchi ok ho capito ah scusa ho sbagliato aspetta adesso ti riprendo eh ma tipo che saltavo non c'era il salto questo ma cosa ha fatto? mi ha dato una mentale una testata da sotto brutto ricchione dai ascolta fai serio muori ma eh vedi così si fa ci vuole un attimo a morire questa è la realtà e mi ha dato meno soldi e mi ha dato meno soldi perchè ah perchè uno la forse l'ho persa carne dell'uomo delle caverne per alcuni no no basta se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace voi se lo state guardando da youtube e scegliamo insieme poi se fare storia online offline nell'offline poi c'è battaglia in arcade tesoro vs pratica ditemi voi nei commenti qua sotto cosa fare ci vediamo al prossimo video ciao a tutti un bacio a tutte